Povero diavolo, dopo l'Imoleese al Bonolis si prende i tre punti anche la Feralpi Salò che vince il rimonta dopo il momentaneo rigore trasformato da Infantino al primo gol in maglia bianco-rossa. Quella bresciana è squadra dotata di rango, come dimostra l'attuale quarto posto, ma è stata agevolata non poco da un Teramo che dopo un buon primo tempo, quando in pratica è riuscito a giocare corto e su ritmi alti, ha mandato tutto all'aria nella ripresa con un blackout non caso isolato, purtroppo incassando due reti in sei minuti. Il protagonista Caracciolo, che per il resto della gara si è visto poco, ma da bomber di razza qual è, ha fatto quello che doveva fare in pochi minuti. Tra l'altro l'Aerone con questa doppietta ha raggiunto quota 200 reti tra i professionisti. Per quel che mi riguarda sono contentissimo di aver raggiunto questo traguardo che è importantissimo, insomma 200 gol non sono pochi. Adesso non vedo l'ora di arrivare a casa e dirò ai miei figli che papà ha fatto 200 gol. Viceversa tanta l'amarezza in casa bianco-rossa per lo stop e per un inizio 2019 da dimenticare e correggere in fretta. La squadra di Maurizzi in quattro gare ha incassato appena un punto, troppo poco per chi deve salvarsi, così come poco consistente e confusionario è stata la reazione dopo l'1-2 ospite. La squadra della ripresa è partita, non è partita male, è partita tramortita da, purtroppo un episodio ci ha togliato le gambe e prendere un gol brutto ti porta comunque a crullare un po' da un punto di vista psicologico. Però devo dire che poi nel corso della partita, rispetto anche a altre partite, abbiamo gestito e siamo andati a fare un forzo in finale molto importante. Però poi c'è bisogno di fare punti e questa è l'esigenza più importante e adesso bisogna ritrovare, non perdere la bussola e cercare di fare punti. La partita. Nel terreno è indisponibile Celli e il lungo degente Speranza. Fiordaliso viene dirottato a sinistra lasciando a Polac il posto in difesa. A centrocampo il tecnico Maurizzi punta su Giorgi con proietti non al meglio in panchina, anche se poi subentrerà nel corso della ripresa. In avanti Zecca vince il bollottaggio con Sparacello. Nella Feralpi di Domenico Toscano ci sono giocatori di qualità, soprattutto davanti. Oltre al già citato Caracciolo, Maiorino e Vita sono uomini pedicolosi senza dimenticare Scarsella, centrocampista offensivo già a quota sette reti. Eppure l'avvio del Teramo è ottimo. Al settimo minuto l'arbitro assegna un calcio di rigore per fallo su Zecca. Dal dischetto Infantino trasforma e poi va a prendersi l'abbraccio dei compagni di squadra. La Feralpi reagisce subito e al decimo ci prova Maiori direttamente su calcio di punizione, Lewandowski è attento e respinge. E' il Teramo però che tiene in mano il pallino del gioco. Al trentanovesimo, conclusione dai diciotto metri di Persia, nessun problema per l'estremo ospite. Nel recupero Teramo vicino al bis con un colpo di testa di Infantino al lato di pochissimo. Ad inizio ripresa il patatrack e il quarto minuto, traversone basso dalla destra, la palla arriva sul secondo palo dove ha postato Caraccelo che deposita comodamente in rete. Al decimo offerà il pin vantaggio ancora con l'erone, azione simile al pareggio anche se stavolta la rete è stata realizzata di piede. Generoso ma improduttivo è il forcing finale del Teramo per agguantare almeno il pari ma l'unico tiro dalla distanza è del difensore Polak. Finisce con la contestazione dei tifosi del Teramo che ne hanno per tutti, dai dirigenti ai giocatori che stavolta non si avvicinano alla curva come fanno di solito. A noi dispiace soprattutto per i tifosi perché ci ha sostenuto dal primo al novantesimo, ci dispiace anche di questa piccola contestazione però credo che ci sta perché abbiamo perso tre partite nell'ultime quattro. Però vorrei chiedere anche ai tifosi di darci una mano come hanno fatto tutta la partita perché siamo sicuri che con l'atteggiamento giusto porteremo a casa tanti punti.